Buon pomeriggio cari amiche e cari amici, buon pomeriggio, sono qui nell'ombra sole di Milanello, riconoscete l'atmosfera, questa è l'atmosfera solo di Milanello, c'è stata e appena finita la conferenza stampa di Stefano Pioli, tanti bei concetti per un allenatore che ha detto che secondo me la cosa che più ci preoccupava e ci ha tolto, dobbiamo credergli ovviamente, ma mi sembrava convinto, si capisce quando sono frasi non di circostanza ma frasi vere riguardo alla forza e soprattutto all'unità del gruppo consolidata se serviva, anche dalla cena di ieri, ve ne abbiamo parlato nel video di questa mattina. Un Stefano Pioli dunque, concentrato per il match contro l'Udinese, io direi innanzitutto di sentire la conferenza stampa, poi parleremo un commento e soprattutto la formazione che ha una sorpresa sulla fascia destra probabilmente. Sentiamo innanzitutto Stefano Pioli. Io non so se, credo sia un'ipotesi, però siccome proviene da una persona che ha lavorato ad altissimo livello, Vincenzo Pincolini come preparatore, l'ho letta con interesse e cioè lui sostiene che ci può essere anche una parte degli infortuni determinati dallo stress. stress determinati o dalla giovane età di alcuni giocatori, dal fatto di voler fare un tipo di calcio molto aggressivo, molto puntato. Ci potrebbe essere questo fattore nel valutare i numeri del Milan? Conosco Vincenzo, è un grande rispetto per lui perché ci ho lavorato insieme e poi lo conosco come persona e so che quando parla tiene a quello che dice. Io credo che in parte ha ragione nel senso che secondo me dentro tanti infortuni l'aspetto mentale è importante. Questo sì, a volte perché un giocatore fa fatica a reggere lo stress mentale, a volte perché un giocatore fa fatica a recuperare. Quindi questo può essere sicuramente un aspetto che non sottovalutiamo nel modo più assoluto. Prego. Lungo. Buongiorno mister, mi rego al discorso che stava facendo lei prima. In difesa abbiamo un po' di emergenza e chiaramente questa emergenza arriverà anche per il mercato di invernale. Manca un po' di tempo ma lei si aspetta più di un rinforzo in quel settore visto l'operazione che per fortuna è uscita perfettamente di Calulu. Invece per la partita di domani a livello di lettura secondo lei è meglio una partita più da Krunic o più da Drey? Grazie. Nella parte difensiva chiaramente nella partita di domenica sera Napoli abbiamo perso due giocatori quindi abbiamo perso Piero e abbiamo perso Pellegrino per parecchio tempo e quindi credo che a gennaio, sto parlando col club perché a gennaio possa arrivare un difensore, credo che il club si farà trovare preparato. Per quanto riguarda Kunicet lì vedremo che scelte farò. Antonello Gioia. Salve mister, buongiorno. Resto sulla difesa perché gli infortuni sono tanti e secondo me stanno limitando la forza della squadra. Però magari possono dare come successo in altre occasioni, penso a Calulu quando si fece male Romagnoli in un derby, anche qualche opportunità in più. Le chiedo un parere su Simic, se secondo lei può essere più o meno del livello Correa Madrid aveva fatto anche abbastanza bene nonostante fosse un amichevole e se sta guardando magari a qualche altra posizione, penso a Musa alto a destra per sistemare le cose per la parte di domani soprattutto. Grazie. Beh Simic è un ragazzo interessante, è un giovane interessante, si è allenato con noi già in passato, si è allenato con noi in settimana. Potrei avere anche altre soluzioni in caso di bisogno, Musa è un giocatore completo. Musa potrebbe anche per le sue caratteristiche sì fare la fascia ma anche fare il terzino basso. Insomma spero chiaramente di cominciare con quei quattro difensori domani e di finire la partita con quei quattro difensori ma se ci fosse bisogno di intervenire abbiamo altre situazioni. Ari. Ciao Stefano. Ciao. Quell'1% che dicevi prima che manca. Non ho detto che manca, ho detto che se tutti possiamo dare l'1% in più messo insieme diventa un fattore importante e quello deve essere il nostro obiettivo. Passa per l'entusiasmo che magari però deriva da un po' di presunzione o dall'umiltà per aumentare l'attenzione? Passa da giocare partite di livello alto. Passa da quello. Poi non abbiamo perso entusiasmo e non siamo presuntuosi. Io su questo posso essere assolutamente certo. Passa nel cercare di giocare una partita con molta attenzione, con molta qualità, con molta lucidità. Troveremo un avversario particolarmente difficile, probabilmente molto basso, probabilmente forte nelle ripartenze, forte nei contrasti. Quindi ci vorrà molta intelligenza, molte scelte logiche dentro la partita. Forzare quando è un momento di forzare e cercare invece di muovere l'avversario quando è un momento di muovere l'avversario. Quindi c'è tanto dentro una partita. Dovremmo cercare di fare tanto e molto bene. Prego. Buongiorno mister Camillo Facchino, Allmilan.it. Una domanda di carattere generale. Molto spesso si dimentica che questa rosa viene da un'estate. È stata praticamente, se non del tutto rivoluzionata, ma quasi. E il percepito un po' di tutti era quanto tempo servirà questa squadra per trovare la nuova identità, la sua identità. Quanto tempo avrà bisogno il mister per dare un'identità nuova a questa squadra. Ora, in virtù di questo, dopo i primi due mesi di stagione molto intensi e molto complicati a livello anche di calendario, lei è soddisfatto del percorso fin qui della sua squadra? E in termini di percentuali, a che punto è il suo nuovo Milan? Io sono molto soddisfatto del gruppo che si è creato. Questo nel modo più assoluto. Sono anche soddisfatto di una certa identità che già abbiamo, questo sicuramente, ma è chiaro che ci sono, secondo me, per nostra fortuna, abbiamo ancora ampie immagini di miglioramento sia a livello individuale sia a livello collettivo. Carlo? Stefano, me le hanno bruciate tutte, mi storro. Due cose velocemente. Mi sembra che abbiamo parlato un po' con l'Udinese e sono andato a vedere. Adesso abbiamo vinto il Milan ha vinto 2-0, l'ho scritto qua, non sono bravo. Il 30 novembre 2014. Poi dal 2014 a oggi, una volta sola con due gol di differenza, il 4-2 di due stagioni fa. Udinese, Cioffi, nuovo allenatore, quali saranno le difficoltà? Questa è la prima domanda. In generale, sarà un Milan-Verona qua e tutti i giocatori dietro? Dove saranno le difficoltà? Idealmente, credo che l'Udinese farà una partita d'attesa, credo che l'Udinese farà un blocco difensivo con tanti giocatori e quindi le difficoltà saranno quelle di trovare gli spazi adatti, di prendere le posizioni adatte comunque per mettere in difficoltà i nostri avversari, assolutamente di impedire le ripartenze perché è chiaro che se vogliamo fare una... e secondo me dobbiamo essere bravi ad avere una superiorità nel gioco, giocare molto nella loro metà campo, ma con lucidità, con pazienza, non con frenesia e assolutamente con tanta compattezza. Dobbiamo essere una squadra molto corta, molto compatta per favorire il palleggio, per avere soluzioni semplici, facili e per impedire le ripartenze all'Udinese e quindi sarà come sempre è stato, come giustamente è sottolineato, una partita non semplice. Lei ha avuto allenato l'Inter, la Lazio, la Fiorentina e altre. Il centravanti più forte che ha avuto, possiamo dire Giroud, visto che ne ha avuti tanti, perché ho letto una statistica, in Europa è di fianco a Kane Holland come il giocatore con sette gol nel 2023 che ha segnato più gol di testa. Ecco, un'opinione sull'uomo e soprattutto sul giocatore. È fra quelli più forti che lei ha allenato? È peccato che il tempo passa anche per lui. Sull'uomo e sul giocatore il mio giudizio è top, perché Olli è una gran persona ed è un grande giocatore, è una persona che lavora sempre per il bene comune, gioca per il bene comune, gioca per la squadra e poi finalizza anche bene. Ho avuto la fortuna di allenare tanti centravanti, Zlatan, Close, Girardino, sono tanti centravanti di livello ma sicuramente è un livello molto alto. Queste le parole di Stefano Pioli, la frase che mi ha colpito di più è quella riguardante la compattezza del gruppo, è fondamentale. Ha detto che non ha mai avuto un gruppo così compatto, così unito, così forte nelle convinzioni ed è importante perché una delle accuse, una delle accuse che, o meglio, accuse no, una delle voci, dei rumors, riguardava la compattezza del gruppo. Compattezza del gruppo che ha ribadito ancora una volta Stefano Pioli. Per quello che riguarda Zlatan Ibrahimović, avete anche voi capito che tutte le illazioni circa una figura ingombrante che va a diminuire la figura dell'allenatore Pioli, invece assolutamente no. L'allenatore sarebbe contento di avere una figura così importante ma ha sottolineato, attenzione, io con Furlani, con Giorgio Furlani, l'amministratore delegato parlo, con i giocatori parlo, come per dire, non è che io sia qui così. Qualcuno ipotizzava un Piole alla Ferguson, non so se arriverà a quei livelli di carisma e di comando all'interno del gruppo, però insomma ha sgombrato anche qualche equivoco, almeno sentendo lui, riguardante il discorso, qui serve una figura, se arriva bene ma ha fatto capire Pioli che insomma la gestione dello spogliatoio è una gestione che lui sta portando avanti. Ma veniamo a quello che più interessa, la formazione. Allora, innanzitutto avete sentito il discorso riguardante gli infortunati e quindi il fatto che torni domani Loftus-Cheek è un fatto molto importante, un fatto importante per, non solo per il centrocampo, ma sarà un caso o non sarà un caso, ma è un fatto importante anche per quello che riguarda il discorso relativo all'attacco e ai gol, perché abbiamo più volte letto le statistiche con Loftus-Cheek in campo e con Loftus-Cheek fuori campo, manca dal 30 settembre il match vincente vittorioso contro la Lazio. Detto questo, la difesa che ormai è ai minimi termini, perché sono rimasti Florenzi, Calabria, è rimasto ancora il Tomori-Ciao e arriva Simic, c'è Bartesaghi e Teo Hernandez. Quindi due giovani, due ragazzi e quindi il Milan in difesa giocherà con quelli, con Calabria. Si pensava potesse magari tenerlo per il match contro il Paris Saint-Germain, è uno dei due dubbi, Florenzi-Calabria. A centrocampo non c'è spazio per Adli, non è inutile quelli che non gli adlisti come me hanno capito che Krunic è il giocatore fondamentale negli schemi di Pioli. Questa è la sua scelta e quindi speriamo che Krunic segni tre gol domani, così siamo tutti contenti, anche se noi adlisti l'avremmo voluto in campo contro il Ludinese e dovrebbe giocare Krunic con Musa e Reinders. Là davanti dovrebbe esserci ancora Leao e Giroud, l'unico dubbio, ma in questo momento trovo che sia candidato più uno che l'altro e credo Ocafora a destra. Ha detto che servirà, sarebbe una bella soluzione Ocafora a destra perché Pulisci invece sentito non ci sarà, quindi Ocafora a destra in ballottaggio con Romero ma favorito è Ocafora. Credo che tra Giroud e Jovic sia ancora il preferito Olivier Giroud di cui sulla mia domanda ha proprio parlato Stefano Pioli. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e attivate la campanella.